Salve cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo in Indonesia, a Jakarta. So che quelli che mi seguono sono dei curiosoni e per questo vi farò vedere qualche cosa di interessante. Ancora io non so cosa staremo per vedere. Continuate a seguire questo clip, stiamo arrivando. Qui abbiamo una scritta. Non lo so cosa staremo per vedere. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Ci avviciniamo. Siamo i primi nella storia a scoprire qualcosa di interessante. Vediamo un po'. Eccoci qua. Abbiamo spiato assieme nel buco e ci sentiamo alla prossima. Continuate a seguire tutti i miei videoclip di Teladoio all'Indonesia. Ciao a tutti. Ciao.